Passavo per il cavalcavia e da un giorno hanno bloccato tutto, quindi dobbiamo passare qua in mezzo alla strada praticamente. E niente. Ti senti meno sicuro? Beh decisamente, anche perché il tram passa attaccato. Non è pericoloso? Sì, lo so, però mi sono trovata dall'altra parte della strada. Devo scappare, scusate, devo andare a lezione. La fretta, si sa, è cattiva consigliera, sono però in molti, dopo la chiusura della passerella ciclopedonale ovest del cavalcavia Borgomagno, per i lavori di impermeabilizzazione, a passare sulla carreggiata. C'è chi corre e c'è chi va contromano, tutto lungo la corsia del tram. Siamo sulla rampa che dalla stazione porta al cavalcavia Borgomagno. Da ieri questa strada è bloccata e come vedete molti ciclisti e pedoni preferiscono prendere la strada piuttosto che seguire le indicazioni e allungare di molto il percorso. Il problema è principalmente per i pedoni che arrivano dalla stazione e che per percorrere i pochi metri del tratto chiuso si vedono costretti ad una deviazione che aggiunge almeno 5 minuti di strada in più. Per le bici non c'è il divieto di transito, anche se il passaggio del tram rende pericoloso l'attraversamento. Siccome dopo devo girare via Liberi, io faccio questo pezzettino qua fuori, però il problema che era un po' che era pericolante per me, diciamo, nel punto di vista. Pensavo che ci fosse la possibilità di attraversare, pazienza. Molti passano sulla strada? Beh no, sulla strada non lo farei mai sinceramente, anche perché se mi spalmano sull'asfalto la colpa è mia. Tra qualche giorno inoltre verrà bloccato anche il traffico delle automobili per permettere il completamento dei lavori.